L'avvertenza sul centro trasfusionale dell'Annunziata di Cosenza, la base della frattura tra i pazienti talassemici in protesta da tempo contro il trasferimento dell'importante servizio sanitario e i vertici dell'azienda ospedaliera Cosentina, si è conclusa con la firma di un accordo che in qualche modo sederà agli animi. Chiamato a gestire il confronto tra le parti, il prefetto Gianfranco Tomao, la delegazione di talassemici, supportati dai consiglieri regionali Mimo Talarico e Carlo Guccione, chiedeva il blocco dello spostamento del centro trasfusioni nelle sale ospitanti fino a qualche mese fa la chirurgia d'urgenza. Un no giustificato dal fatto che una simile soluzione non avrebbe garantito le prestazioni nella dovuta sicurezza. Il faccia a faccia tra una delegazione di talassemici e manager dell'ospedale per trovare una soluzione condivisa al problema che interessa una sessantina di famiglie, ha trovato l'esito positivo con l'accordo firmato nei giorni scorsi in prefettura e che ne ha stabilito i tempi. Secondo l'accordo, entro otto mesi si dovrà realizzare il nuovo centro trasfusionale o comunque entro quei tempi trovare un'alternativa più adeguata alle esigenze terapeutiche dei talassemici.